Scusa 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 Ma? 50 Te li do la prossima volta Perfine Pagno Te li do la prossima volta La prossima volta Pagno Ese la prossima volta Pagno Pagno Oh Alex, più tardi andiamo al parcheggio, sanno pure gli altri, ci raggiungi? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Quanto tempo è che non ci vediamo? come stai bene mamma mia piacere vederti mi ricordo quando eri bambino e stavi sempre accanto a tua madre che ci fai qua se non sbaglio un'ottima collezione vintage si ne parlavi spesso con il nonno franco bolli schede telefoniche cartoline monete anche vinili si come cosa ne pensi di questo bello raro anche se mi sembra di averlo già visto forse mi sbaglio come vendere sì che prezzo mi paresse 50 ci sono affare fatto viedimi a trovare ciao a Grazie a tutti.